L'impressione è sicuramente positiva, è una squadra che abbiamo costruito in estate facendo attenzione a tante cose e quindi crediamo fortemente in questa squadra. Non ho ancora avuto la possibilità di vederli all'opera perché iniziamo la parte pratica fra poco. Stamattina abbiamo fatto degli incontri individuali dove ho parlato un po' in maniera approfondita e individuale di quelle che sono le caratteristiche, le peculiarità di ognuno. Abbiamo fatto una riunione di squadra per darci degli obiettivi e adesso non resta altro che iniziare. Dopo tutti i mesi di stop e imporsi dal coronavirus immagino che sia anche dura un po' a riprendere ma ci sia grande voglia di tornare in campo. Sì, una sosta così lunga è anomala, è stata anomala per tutti, quindi un po' tutto lo sport ma tutta la vita dell'intera umanità ha pagato di questa sosta che è stata fondamentalmente oltre che fisica e soprattutto psicologica. Quindi credo che sia giusto cominciare con calma, sia giusto cominciare aspettando con molta pazienza quelli che saranno i frutti del lavoro. Non dobbiamo aver fretta, dobbiamo dare il tempo a questi ragazzi di rientrare nei meccanismi sia mentali che fisici che fisiologici per quella che è la loro attività. Quindi siamo fiduciosi e lavoreremo per questo. Che tipo di campionato ci possiamo aspettare guardando anche le squadre che affronterete? Io l'ho detto prima ai ragazzi, il campionato sarà durissimo, tutte le partite sono partite molto molto dure perché le squadre si sono rinforzate tutte, il livello è più alto rispetto allo scorso anno come è giusto che sia e come ho ripetuto ai ragazzi questa è una cosa estremamente positiva che il livello sia più alto perché significa che giocheremo in un campionato di più alto livello, gli stimoli saranno elevatissimi in ogni gara, non avremo tempo per fare pensieri di altro genere ma concentrati sul lavoro, concentrati sui sistemi di gioco, concentrati sulla disciplina tattica che ci deve accompagnare per tutto l'arco del campionato. Allora grazie e buona ripresa. Grazie a voi.